Allora Ciambetti, anche lui 5 minuti. Brevissimamente anche perché Galli ha assolutamente riassorbito i lavori fatti ieri. Sulla scuola, il fatto di avere una scuola gestita e controllata a livello regionale ci deve permettere di far superare ai popoli padani un'amnesia che adesso invece copre qualsiasi tipo di attività e di recupero della nostra memoria. Cancellare la memoria di un popolo e negarne l'identità, ridicolizzare le sue tradizioni, usi e costumi significa di tentare di dominare quel popolo, asservirlo ai propri scopi, piegarlo. I colonizzatori la prima cosa che fanno è cancellare qualsiasi simbolo del passato. Quindi tradizioni, culture locali, lingue sono i primi veri nemici della massificazione alla quale qualcuno vuole appiattirci per renderci tutti uguali. L'identità profonda di un popolo è il primo nemico di chi vuole sfruttare quel popolo. Un popolo privo di identità che vede negata la sua cultura, che vede ridicolizzata la sua lingua, i suoi usi, le sue tradizioni, è un popolo che non riesce nemmeno a capire il valore del suo lavoro, il valore di quello che fa. Quando i liberi comuni dettero vita alla Lega Lombarda, erano innanzitutto convinti di reclamare una cosa che spettava loro. Noi dobbiamo ridare orgoglio ai nostri popoli perché dobbiamo reclamare quello che ci spetta. Quando appunto i liberi comuni si misero assieme contro le angherie di un impero, riuscirono a sconfiggerlo, a passare oltre il feudalesimo e andare verso una nuova Europa. Quello è quello che dobbiamo fare noi per riprendere la nostra storia e la nostra cultura. La libertà si riconquista andando a ricostruire l'orgoglio all'interno dei nostri popoli. Un orgoglio di appartenenza che abbiamo una grande storia alle spalle, una grande cultura. Abbiamo bisogno di riapprezzare la nostra identità. Quindi riportare la scuola alle regioni è una cosa che serve a far capire alle nostre genti che abbiamo molto da chiedere. La questione sedentionale è una cosa che è tornata di attualità a maggior ragione adesso quando abbiamo visto uno Stato centrale, specialmente negli ultimi due anni, che ha riportato al centro tantissime competenze, risorse, momenti di decisione. Quindi dobbiamo riportare questa questione che non è morta, che non viene meno appunto rispetto a quello che dicevamo 20-30 anni fa. Lo Stato italiano è finito sotto il peso delle sue contraddizioni. Lo Stato unitario centrale ha fallito la sua missione, è stato superato dalla storia stessa e la stessa Europa non può permettersi di tenere in pieno una baraccopoli come questa. Lo diceva il Presidente di Asso Lombarda qualche giorno fa, dobbiamo riprendere un percorso di federalismo che sia reale. Lo diceva Piero Bassetti ieri, non è mai successo niente appunto che andasse a portare veramente delle competenze alle regioni. Quindi non è umiliando le periferie che si può raddrizzare questo albero storto. Dobbiamo riportare attraverso una questione settentrionale che va rilanciata più competenze ai territori, più competenze alle nostre regioni. E questo è il senso della nostra mozione. Grazie.